invidiatissima categoria quella delle mamme vip dalle modelle agli attrici passando per cantanti e celebrità vale titolo non ce n'è una come ad esempio belen che non abbia sfoggiato una linea perfetta a poche settimane dal parto un dono che manda il tilt e non per un dire altro le donne normali che nella stragrande maggioranza dei casi invece lottano mesi per tornare in forma e non sempre ci riescono tuttavia dietro a un'apparenza dorata le zone d'ombra non mancano come ha rivelato in una recente intervista a latina.com adriana lima non avevo idea di quello che sarebbe accaduto al mio corpo dopo la seconda gravidanza se sarei tornato in forma e in quanto tempo ha raccontato la top ammettendo che riuscirci è stata una grande esperienza ma anche molto dura tornare in passarella per vittoria secrets due soli mesi nel parto è stato di sicuro la più grande sfida della mia vita ha dichiarato adriana spiegando che per vincerla ha riconunciato a fare esercizio fisico tre settimane dopo aver partorito quando un medico gli ha detto ok puoi ricominciare a lavorare grazie a tutti grazie a tutti